Quindi è una situazione molto delicata. Sì, è una situazione molto delicata, però io sono d'accordo con quel filosofo che diceva che non è libero chi crede in condizioni, in convenzioni, in opinioni che non esistono, sbagliate. Quindi io faccio una battuta, che mi attirerò nemici, sai me ne sono tirati tanti nemici nella vita. La Morgese, il ministro la Morgese, faccio una cosa, richiami in servizio Bava Beccaris, che sa come trattare questa gente, questi terroristi, perché uno che ha paura di farsi il vaccino, perché deve andare a bloccare una stazione? Eh, non si fa il vaccino e sta buono, no? Perché che senso ha? Richiamiamo in servizio Bava Beccaris, il feroce monarchico Bava, con il piombo gli affamati spavò. Ecco, addirittura così, vabbè, cazzola purtroppo su queste cose, ma se le cerca, perché le dice queste cose e poi dice che la attaccano? Perché non hanno nessuna scusa, non hanno nessuna scusa questi, questi sono dei terroristi, non hanno nessuna scusa, e quindi non meritano nulla. Mi faccio sentire il professor Tremonti per sedare gli animi, cazzola. Però meritano l'accelere che li bastoni.